Un anno di reclusione per il medico del 118 di Pescara Vito Molfese, otto mesi per il medico sociale del Livorno Maglio Porcellini e per quello del Pescara Ernesto Sabatini, pena sospesa. E' arrivato così a sentenza di primo grado il procedimento penale per la morte del giocatore del Livorno Pier Mario Morosini, deceduto il 14 aprile del 2012 allo stadio Adriatico Cornacchia nel corso della partita di campionato di Serie B proprio contro il Pescara. Il giudice monocratico del Tribunale Adriatico, Laura D'Arcangelo, ha emesso la sentenza dopo tre ore di Camera di Consiglio, condannando i tre imputati, insieme alla ASL di Pescara e alla Pescara Calcio, anche al pagamento di una provvisionale di 150 mila euro in favore della parte civile, la sorella di Morosini, che però ne aveva chiesti 330 mila. In mattinate il pubblico ministero Gennaro Varone aveva chiesto per il reato di omicidio colposo una condanna a due anni per Molfese e l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato per Porcellini e Sabatini. L'avvocato di parte civile nel pomeriggio aveva commentato la vicenda del povero Morosini dicendo di provare una certa rabbia nel vedere le immagini con il defibrillatore in campo vicino al giocatore e nessuno che lo utilizzava. Il medico del Livorno, Maglio Porcellini, unico imputato in aula al momento della lettura del dispositivo di sentenza, non ha voluto commentare la condanna, mentre il suo avvocato, Gabriele Rondanina, si è detto sorpreso e dispiaciuto confidando di approfondire meglio il pensiero del giudice quando saranno rese note le motivazioni della sentenza.